La Giunta Comunale di Sanremo ha approvato una delibera relativa all'intervento di fornitura e posa in opera di nuova tecnologia per l'adeguamento e la sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti con nuovi apparecchi a LED per un importo di oltre 400.000 euro. Si tratta di 420 punti luce, spiega il Sindaco Alberto Biancheri, che verranno posizionati in tutto il centro storico e illumineranno anche Via Palazzo e Piazza Eroi Sanremesi entro la fine dell'estate. Questo intervento è finalizzato al contenimento energetico perché il Comune di Sanremo potrà ottenere un risparmio di circa il 50% e a garantire maggiore sicurezza ai cittadini grazie al potenziamento dell'illuminazione. In un secondo momento inoltre sarà possibile intervenire su questa tecnologia smart con l'installazione di telecamere a reti wifi, insomma un servizio in più nei punti nevralgici della nostra città per consentire di effettuare un controllo più capillare e adeguato. Più sicurezza quindi nel centro storico matuziano con il finanziamento che era stato destinato ai chioschi di Piazza Muccioli. Il fallimento della trattativa con i gestori dei chioschi di Piazza Eroi, che non intendono lasciare l'attuale posizione, ha ora la finalità di destinare i fondi ai punti di illuminazione. La delibera prevede altresì la proposta di procedere ad una nuova formulazione del programma attuativo del progetto integrato Pignamare e ad una rimodulazione del relativo quadro economico da proporre alla Regione Liguria, affinché quest'ultima predisponga un apposito decreto. L'intervento verrà indirizzato sulle lanterne artistiche esistenti e verranno rimossi i vetri laterali e una volta ripulite al loro interno posizieranno i kit LED.